Un saluto da Alex Guarini di Trebimeteo.com Una vasta e profonda circolazione depressionaria si approfondisce in Atlantico, interessando anche il Mediterraneo e quindi l'Italia, con una serie di perturbazioni che nei prossimi giorni raggiungerà nel nostro paese. La prima di queste arriverà sabato 18, con un peggioramento che si estenderà inizialmente sul nord Italia e sulle regioni del versante tirrenico, come al tempo che poi entro domenica raggiungerà il centro-sud. Attenzione ai venti forti di Scirocco che si estenderanno a buona parte dei nostri mari. Ma partiamo dalle temperature iniziando dai valori minimi che saranno stazionari, ma comunque superiori alle medie del periodo, soprattutto al centro-sud. Stesso discorso anche per quanto riguarda le massime, con punte superiori a 15 gradi sulle regioni meridionali, addirittura fino a 20 gradi in Sicilia. Ma entriamo quindi nel dettaglio previsionale riferito alle regioni del nord, che vedranno marcato mal tempo per tutto il corso della giornata, con piogge rovesci diffusi lungo le coste su buona parte delle pianure e nevicate su tutto l'arco alpino alle quote che vedete indicate nella grafica. Spostiamoci ora al centro, che vedrà il peggioramento iniziare dall'alta Toscana con acquazioni sparsi che poi entro sera si porteranno rapidamente fin verso il Basso Lazio, mentre resistono ancora delle schiarite e un tempo generalmente asciutto sui settori orientali. E infine al sud prevale ancora il bel tempo nella prima parte della giornata, salvo il transito di innocue stratificazioni nuvolose, vi ricordo ancora i venti intensi dei quadranti meridionali, bel tempo prevalente al mattino anche sulla Sardegna, ma anche qui con graduale peggioramento entro la serata. Aggiornamento in tempo reale come di consueto su trebimeteo.com